Ciao a tutti. Oggi vi porto delle anticipazioni di Terra Amara davvero sconvolgenti. Dopo la morte di Ilmaz, la sua eredità è scomparsa nel nulla, facendo così scatenare l'ira di Mugeigan, che senza pensarci due volte, aggredisce Zulia con forti parole. Siete pronti ad immergervi in questa fantastica ed emozionante puntata? Prima di iniziare se ti va attiva la campanellina per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Partiamo? Scopriamo che sono spariti ben 20 milioni di lire turche, e l'atmosfera tra Beis e Mugeigan si fa sempre più carica di tensione. Negli occhi di Mugeigan si legge la rabbia mentre punta il dito accusatore contro la zia, facendole capire di averla coinvolta in questo vortice senza fine. Se siamo finiti in questo caos, è colpa tua! Esclama con voce vibrante, manifestando tutta la sua rabbia. Essere stata allontanata dalla casa di Fekeli pesa come un macigno sul suo cuore. Ma ora, come faranno a pagare il lussuoso hotel in cui alloggiano? Beis, con uno sguardo teso, suggerisce a Mugeigan di chiedere aiuto a qualcuno. Ma a chi potrebbero rivolgersi in un momento così critico? Vediamo Mugeigan comporre il numero di Fikret, la sua voce rotta dalla disperazione che riempie la stanza. Fikret, capendo la gravità della situazione, si precipita immediatamente in hotel. Una volta riuniti in hotel, zia e nipote rivelano a Fikret la sorprendente verità. L'immensa eredità di Ilmaz si è ridotta a soli 80.000 lire turche, equivalenti alla vecchia dimora di Sermin. Ma come è possibile? Dove sono finiti i 30 milioni mancanti? Il mistero si infittisce, e Fikret, preoccupato, torna da Fekeli per informarlo della critica situazione. Nonostante il dolore e la delusione, Fikret implora Fikret di offrire rifugio alle due donne. Fekeli, ferito nel profondo ma guidato dalla preoccupazione per il giovane Kerem, decide di aiutarle. Ma il mistero dei 30 milioni rimane in solut. Fekeli e Fikret decidono di recarsi dalla misteriosa Zuleia. Sarà lei a possedere la chiave del mistero? Zuleia, con il cuore in gola, ascolta la rivelazione di Fekeli, sapendo che Ilmaz aveva fatto affari con la signora Yaman, ma ignorava l'enorme somma in gioco. Fekeli, con uno sguardo penetrante, la interroga sul passato. Zuleia, con voce tremante, ammette di non aver mai indagato su come Ilmaz potesse permettersi la casa, essendo troppo presa dalla felicità del momento per notare i dettagli. In questo vortice di emozioni e rivelazioni, il mistero dei 30 milioni diventa sempre più avvincente. Chi avrà preso quei soldi? E perché? La risposta potrebbe essere dietro l'angolo, o forse no. Fekeli si trova di fronte a Zuleia, cercando disperatamente di leggere la verità nei suoi occhi e riporre la sua fiducia in lei, senza poter credere che Zuleia possa nascondere un segreto così grande. Zuleia, con voce ferma e risoluta, sottolinea che se avesse avuto quei soldi, li avrebbe consegnati senza esitazione, poiché Kerem, il legittimo erede, merita ogni centesimo. La sua integrità e il suo amore per Kerem sono indiscutibili. Fekeli e Fikret, riconoscenti per la sincerità di Zuleia, lasciano la stanza e si dirigono verso L'atmosfera è carica di tensione. Bass, come suo solito, cerca di alimentare il conflitto, ma Mugeigan, esausta, la zittisce con fermezza. Fekeli, con uno sguardo penetrante, si rivolge a Mugeigan, ignorando le provocazioni di Bass. Le parole di Fekeli sono un mix di dolore e speranza. Una parte di lui è pronta a perdonare Mugeigan, ma l'altra porta una cicatrice indelebile. Con gli occhi lucidi, Mugeigan supplica Fekeli di trovare nel suo cuore la capacità di perdonare. Bass cerca di difendere le loro azioni, sostenendo che tutto ciò che hanno fatto era per il bene di Kerem, ma Fekeli, con uno sguardo fiammeggiante, la redarguisce, esigendo che Bass smetta di manipolare e influenzare Mugeigan. Stabilisce una condizione chiara. Se vogliono tornare nella sua dimora, Bass dovrà rispettare l'autonomia di Mugeigan e smettere di interferire nelle sue decisioni. Le due donne, pur con riluttanza, accettano le condizioni di Fekeli. Tornate nella residenza di Fekeli, assistiamo a un altro scontro. In una stanza, Bass viene raggiunta da Nazire, che le offre lenzuola immacolate con un tono di voce gelida. Dice, ecco le tue lenzuola fresche, prego. Bass, con un sorriso sarcastico, risponde, non dovresti tu stessa rifare il mio letto, dato che è il tuo compito? Ma Nazire, con una determinazione inaspettata, ribatte che ha altre mansioni da svolgere e che non può occuparsi del letto di Bass. In quel momento, la tensione tra le due donne è palpabile, e si presagisce che ci saranno ulteriori scontri in futuro. In un salotto avvolto da una luce soffusa, vediamo Mujaygan e Fekeli, seduti su divani opposti separati da un tavolino imbandito con tazze di caffè ormai fredde. Fekeli, con uno sguardo profondo e preoccupato, cerca di far comprendere a Mujaygan la vera natura di Bass. Le spiega che Bass, con il suo comportamento, ha dimostrato di essere una donna che brama solo lusso e agi, desiderando una vita opulenta senza il minimo sforzo. Bass vede in Mujaygan non solo una nipote, ma anche una fonte di reddito, poiché non può permettersi il lusso che desidera con la sua modesta pensione. Con un sospiro, Fekeli suggerisce a Mujaygan di guardare oltre le parole dolci e le manipolazioni di Bass e di prendere le redini della propria vita. La mattina seguente, il salotto diventa nuovamente il palcoscenico di un'altra collisione. Bass, con un tono altezzoso, chiama Nazzire e le ordina di prepararle un tè. Nazzire, con un sorriso malizioso, risponde, signora Bass, la cucina è proprio lì, sono certa che sarà in grado di prepararsi un tè da sola. L'atmosfera si carica di tensione, e Bass, con un'espressione di delusione, si rende conto che la sua posizione nella casa non è più quella di un tempo. Tuttavia, Bass non è del tipo che si arrende facilmente. Successivamente, la vediamo cercare di guadagnare la simpatia di Mujaygan in ospedale. Vedendo l'espressione turbata della zia, Mujaygan le chiede cosa non vada. Bass, con voce lamentosa, confida di sentirsi emarginata a casa e sottolinea la crescente ostilità delle domestiche. Poi, con un tono cospiratorio, insinua di poter sapere qualcosa dei soldi scomparsi di Ilmaz. Dobbiamo scoprire la verità, sussurra Bass, Zuleya sa qualcosa, ne sono certa. Già emotivamente provata, Mujaygan si lascia influenzare dalle parole della zia, consumata dalla rabbia e dal sospetto. Decide di affrontare Zuleya e la vediamo arrivare senza preavviso alla dimora di Zuleya, dove la donna sta trascorrendo del tempo con Sevda e Sermin. Le tre donne, sorprese dall'arrivo inaspettato di Mujaygan, la guardano con occhi interrogativi. Con voce tremante, Mujaygan esclama, dobbiamo parlare ora. La tensione è palpabile, e si preannuncia un confronto imminente. In un'atmosfera densa di tensione, Zuleya, con un'espressione di sorpresa, accoglie Mujaygan nel suo salotto. Di cosa vuoi parlarmi? Chiede, cercando di capire il motivo di una visita così inaspettata. Con tono serio, Mujaygan insiste sulla necessità di una conversazione privata, e le due donne si dirigono verso lo studio di Demir, ma non senza notare l'ombra furtiva di Sermin che, con la sua insaziabile curiosità, decide di origliare dietro la porta. Con voce tremante, Mujaygan chiede a Zuleya se era al corrente dei piani di fuga di Ilmaz e delle vendite delle sue proprietà. Zuleya, mantenendola calma, conferma di saperlo ma si chiede quale sia l'obiettivo di Mujaygan con queste domande. La rivelazione di Mujaygan sul mistero dei 30 milioni scomparsi lascia Zuleya senza parole, e chiede a Mujaygan perché venga con queste accuse, cercando di capire le sue intenzioni. Mujaygan, con occhi fiammeggianti, insinua che Zuleya potrebbe avere quei soldi, sottolineando che rappresentano l'intera eredità del piccolo Kerem. Zuleya, ormai al limite della pazienza, ribatte che non ha mai avuto accesso a tali somme, e che avrebbe restituito ogni centesimo se fosse stato così. Tuttavia, Mujaygan, con un tono accusatorio, continua a sostenere la sua teoria. Prima di partire per la Germania, Ilmaz potrebbe aver affidato a Zuleya quei soldi e, dopo il tragico incidente, Zuleya potrebbe aver deciso di tenerli per sé. Sentendosi angolata, Zuleya decide di affrontare la situazione in modo diretto. Apre un cassetto e ne estrae un libretto degli assegni, chiedendo a Mujaygan quanto voglia per porre fine a queste accuse infondate, con un tono tra il sarcastico e l'irritato. Tuttavia, Mujaygan rifiuta l'offerta, sottolineando che non è interessata ai soldi personali di Zuleya. La conversazione raggiunge il suo apice quando Mujaygan minaccia Zuleya di denunciarla se non confessa. Zuleya, esasperata e ferita, decide di porre fine all'incontro e caccia Mujaygan dalla sua villa. Dove saranno finiti i 20 milioni? Faremelo sapere nei commenti. E se il video è stato di tuo gradimento, lascia un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ciao! Grazie a tutti! Grazie!